Io sono stato fedele più che all'istituzione, alle coscienze che sono cresciute attorno a me, per cui ho avuto una specola di osservazione del mondo che non è lo studio, la biblioteca, ma è questa coralità umana, questa specie di scambio che c'è anche quando tutti sono zitti fra me e le coscienze altrui. Quindi ho seguito mutamenti del mondo in questo specchio della comunità eucaristica. Detto questo, la domanda che mi viene posta è molto grave, ma io rispondo con molta sincerità. Io penso che per questo cristianesimo non c'è futuro, perché guardando l'evoluzione dell'umanità a dimensioni planetarie io percepisco il cristianesimo di cui faccio parte come una edizione, una formazione, una figura direi con Hegel, storica, ben circoscritta, in cui all'annuncio evangelico che sta alle sorgenti di questo cristianesimo, si sono congiunte, intrecciate a volte in modo organico altre componenti che sono derivate dalle culture che questo annuncio ha attraversato, quella ebraica, quella greca, quella romana, quella germanica. Ma se io confronto questa modalità storica della fede con le attese delle altre culture mi accorgo che questa modalità non ha universalità. Allora io teorizzo, anche nei miei libri faccio questo, il superamento delle religioni, non la distruzione, perché per la prima volta nella storia umana, la prima volta, le religioni monoteistiche che sono vissute insularmente dentro le loro rispettive culture, sono convocate a un confronto estremo. Quella che Voitiva chiamava la sfida trascendente della pace, l'incontro di Voitiva ad Assisi con le grandi religioni, per me ha un valore emblematico, perché in quel caso anche il Papa di Roma, invece di confrontarsi con la sicurezza di avere la verità con le altre religioni, ha invitato sé e le altre religioni a confrontarsi con chi? Nemmeno con Dio, con l'uomo minacciato di estinzione. E quindi c'è una conversione antropologica, diremmo, delle religioni, che invece di misurarsi sull'asse verticale delle loro certezze religiose, si sono confrontate con l'orizzontale del futuro dell'uomo. Questa è la conversione in corso, e tutto questo non può che mettere in contestazione le religioni che sono cresciute dentro una cultura di aggressività. Siamo nel 1992, a 500 anni dalla scoperta dell'America, dalla conquista dell'America, che fu lo sterminio dell'Indios e che fu anche per la Chiesa Cattolica un grave crimine contro il Vangelo, perché il Vangelo fu portato con la spada. Quindi la Chiesa è chiamata a ripensare alla sua storia liberandosi da ogni memoria apologetica per riconoscere le proprie colpe nelle guerre del passato, che sono state sacralizzate spesso, e per aprirsi al compito della pace nel pianeta, che oggi è una condizione di sopravvivenza, perché questo è il fatto nuovo. Quando l'uomo d'oggi cerca salvezza, non cerca la salvezza dell'anima, cerca la salvezza totale. E allora le religioni che fanno? Esortano a pregare Dio? Oppure si impegnano a mobilitare tutte le energie dello spirito perché l'uomo finalmente avvia un capitolo nuovo della sua storia, che è il capitolo della pace, in cui si è spunta dall'umanità la legge della forza come strumento del diritto, come strumento di verità. Ora questo è un capitolo totalmente nuovo per le religioni monoteistiche, il cui Dio gronda di sangue, più o meno, io non metto, anzi chiedo scusa se metto insieme buddismo ad esempio in cui la non violenza è stata sempre così importante e islamismo che so io, però in grosso modo dobbiamo riconoscere le religioni sono state subalterne a culture fra loro aggressive. Il tempo nuovo è il superamento delle religioni e quindi anche del cristianesimo così com'è che deve rigenerarsi perché per me questa fine non è una morte, mi viene a mente il motto evangelico, se il chicco di grano non muore non darà frutto, questo cristianesimo deve morire per dare frutto, morire vuol dire ritrovare la propria fecondità sorgiva, il proprio annuncio profetico, quindi io sono ottimista, non nel senso trionfalistico perché io non penso a una conversione di tutti gli uomini al cristianesimo, penso alla presenza nel mondo di un fermento evangelico rappresentato da comunità di fede che è un fermento di salvezza per tutti, anche per quelli che non si convertono, questo è un principio che non è certo possibile ora spiegare ma per me è fondamentale perché mi dà serenità nel guardare la pluralità delle culture e delle religioni del mondo.